Grazie Buon pomeriggio a tutti come avrete saputo si è svolto attendiamo che entrino tutti come avrete saputo si è svolto, si è appena concluso il consiglio dei ministri abbiamo inteso riunirci qui perché abbiamo inteso anche attribuire a questa riunione un valore simbolico vi posso dire che erano collegati tutti i ministri forse ne mancava uno o due per un impedimento personale ma tutti i ministri erano presenti sono stati presenti al consiglio dei ministri quasi tutti collegati anche per via telefonica quindi è stato un consiglio dei ministri particolarmente presente in tutte le sue componenti nel corso di questo incontro sono lieto di comunicare che abbiamo deliberato accogliendo la richiesta del governatore delle giuriatosi abbiamo accolto la sua richiesta e decretato lo stato di emergenza per 12 mesi in conseguenza degli eventi che si sono verificati ieri mattina 14 agosto 2018 a causa del crollo del viadotto noto come Ponte Morandi e abbiamo stanziato per l'attuazione dei primi interventi 5 milioni a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui ha lo specifico capitolo di spesa di cui ha il decreto legislativo numero 1 del 2018 è un primo è un primo significativo una prima significativa misura che questo governo delidera per venire in conto a questa tragedia questa tragedia che ci ha profondamente colpito proclameremo anche una giornata di lutto nazionale adesso stiamo cercando di individuare il giorno e di farlo coincidere con la giornata che verrà dedicata alla cerimonia funebre delle persone defunte ancora abbiamo visitato anche io personalmente alcuni componenti del governo ma anche gli ospedali di San Martino e Villascassi abbiamo anche visitato i feriti che sono in condizioni gravi io personalmente ho parlato con Gianluca Ardini Davide Capello e abbiamo raccolto delle loro testimonianze a tutti i feriti a tutte le persone che versano alcune di queste come sapete in gravi condizioni auguriamo i nostri più fermi di auspici per una pronta guarigione un pronto ristabilimento purtroppo il numero della contabilità dei morti aumenta man mano che passano le ore e noi non possiamo che esprimere il nostro pensiero commosso la nostra vicinanza a loro ai loro soprattutto familiari e a tutto il personale anche sanitario che sta lavorando per recuperare alla pronta guarigione i feriti sono tragedie che sono inaccettabili in una società moderna non devono accadere questo governo farà di tutto per evitare che tragedie del genere si verifichino nuovamente abbiamo già anticipato che avvieremo la procedura di revoca della concessione alla società autostrade chiameremo quindi la società al di là di quelle che sono le verifiche che verranno fatte in sede penale quindi lasciamo ovviamente alle autorità responsabili delle investigazioni penali di fare il loro compito ma noi non possiamo attendere i tempi della giustizia penale noi abbiamo l'obbligo di far viaggiare tutti i cittadini in sicurezza quindi ci muoviamo per il nostro conto e disporremo la procedura di revoca della concessione d'autostrade perché non c'è dubbio che per quanto riguarda il sistema e la convenzione in essere con autostrade ad autostrade incombeva l'onere e l'obbligo il vincolo di curare la manutenzione di questo viadotto e assicurare quindi che tutti gli utenti potessero viaggiare in piena sicurezza questa mattina ho personalmente incontrato anche il procuratore Cozzi procuratore capo della Repubblica di Genova il quale ho visto anche che ha rilasciato poi lui stesso una dichiarazione mi ha dato ampi garanzie sul fatto che per quanto ovviamente ci siano da rispettare le esigenze investigative disporrà subito la possibilità che siano rimossi i cumuli di macerie questo è molto importante perché consentirà di mettere in sicurezza i luoghi e di avvantaggiarsi subito nelle opere di messa in sicurezza e anche di ripristino del sistema viaggio poi ovviamente c'è anche il problema dei cumuli di macerie che sono nel torrente Polcevera e quelli vanno rimossi subito perché ovviamente non vogliamo creare ulteriori pericoli oltre a quelli già creati un secondo momento subito dopo ovviamente le autorità competenti e noi come governo saremo pienamente partecipi di questa iniziativa cercheremo di mettere in sicurezza i tronconi del ponte che sono rimasti pensolanti ecco il nostro applauso sincero va a tutti i soccorritori la macchina dei soccorsi l'ho già detto l'abbiamo già dichiarato a caldo lo confermiamo siamo qui anche perché abbiamo voluto verificare direttamente la solerzia la professionalità e l'umanità con cui hanno curato i soccorsi a loro tutti tutti non nomino tutti i corpi non nomino tutte le componenti che sono entrate in gioco ma a loro va il nostro sentito applauso commosso applauso perché stanno lavorando 24 ore su 24 e continueranno a lavorare in questo modo nelle prossime settimane fino a quando occorrerà un ultimo pensiero anche agli sfollati perché in questa tragedia bisogna tener conto che ci sono tante famiglie da un momento all'altro sono state costrette ad evacuare lasciare abbandonare le loro abitazioni e anche questa è una ferita nella vita ordinaria di persone che non hanno nessuna colpa e di cui questo governo terrà conto insieme alle autorità locali al sindaco al governatore ringrazio anche il prevetto più presente perché direi che la collaborazione tra noi e loro sin qui è stata incognabile e confidiamo che continuerà in questi termini anche prossimamente per tutti gli interventi che saranno necessari ad assicurare a Genova e all'Aliguria e all'Italia intera un pieno ripristino della vita ordinaria adesso se c'è qualche domanda ci sono anche qui i miei ministri sono state che si sono denotate oggi notizie buongiorno Presidente del Consiglio io vorrei chiederle questo quali provvedimenti pensate di adottare per risolvere i problemi causati quanto è accaduto attuali e futuri diciamo provvedimenti da utilizzare in ambito della viabilità beh innanzitutto quali provvedimenti adotteremo come Consiglio di Ministra abbiamo già iniziato a ragionare io l'ho già anticipato dobbiamo adottare in via straordinaria un piano di monitoraggio innanzitutto di tutte le infrastrutture dobbiamo essere consapevoli che il piano delle infrastrutture in Italia è stato realizzato soprattutto la gran parte degli anni 50 60 70 le infrastrutture conoscono una vita hanno una propria vita quindi conoscono un degrado e siamo consapevoli con il governo che occorre un sistema di monitoraggio molto più costante puntuale ed efficace lo metteremo in piedi al più presto non possiamo concederci ritardi su questo fronte e quindi già questo è un primo intervento perché dobbiamo costantemente poter assicurare massima serenità alla popolazione massima sicurezza per quanto riguarda gli spostamenti per quanto riguarda il problema diario specifico di Genova col sindaco governatore Totti abbiamo già abbiamo avuto varie riunioni nel centro di coordinamento per i soccorsi abbiamo già messo a punto dei percorsi diari alternativi che confidiamo di realizzare a breve abbiamo studiato già in via di prima battuta la fattibilità di questi percorsi si tratterà e sicuramente confidiamo di poterli realizzare anche per questo è molto importante rimuovere al più presto le macerie perché esigenze investigative a parte è chiaro che prima si rimuovono quelle macerie prima riusciremo a costruire dei percorsi alternativi di viabilità per evitare ovviamente che la popolazione e tutti coloro che attraversano e utilizzano la 10 possano risentirmi Presidente è prevista la nomina di un commissario con poteri speciali? Anche di questo abbiamo parlato con i miei ministri abbiamo iniziato a valutare questa eventualità quindi sicuramente tra le misure e pidone ci sono abbiamo già iniziato a valiare alcuni strumenti normativi tra le iniziative da adottare non esplodiamo affatti anzi possiamo anticipare che sicuramente ci orienteremo verso la nomina di un commissario ad hoc perché è chiaro che avremo bisogno di una persona di assoluto valore indipendente che sia garante di una pronta ricostruzione e ripressione dello Stato del mondo Giorgio Santelli era in U24 lei ha parlato di un primo intervento di 5 milioni sicuramente è quello che può essere fatto in immediata urgenza però per quello che è successo per le necessità che ha a Genova anche in un contesto nazionale rispetto al ruolo che ricopre le necessità economiche saranno sicuramente le altre dove si immagina dal punto di vista dell'esecutivo di andare a ritracciare quando quelle risorse in più che sicuramente serviranno per ripristinare una delle diciamo capitali italiane delle industrie se lei un po' di pazienza siamo come sa abbiamo deliberato la manovra economica adesso richieda l'esatto capitolo di spesa ma le grazie no no io volevo solo sapere se ovviamente si ragiona probabilmente di manovra di ma guardi io le leggo qui il provvedimento di oggi per l'attuazione dei primi interventi quindi è chiaro che non sono 5 milioni assolutamente sufficienti come da richiesta del governatore toti a cui rispondiamo stiamo parlando nell'elenco che c'è stato fatto di interventi fatti in prima a battuta per consentire lo sgombro delle case dell'evacuazione e la rivoluzione delle macerie è chiaro che arriveranno altre risorse finanziarie queste non sono affatto adeguate per ripristinare lo Stato Presidente mi scusa ci vuol dare i numeri aggiornati contestivi di persone decedute di periti persone ancora disperse e in che modo gli scollati sono stati assistiti o hanno assistito in questo momento dove sono grazie allora ho qui però ecco chiedo anche l'ausilio se fosse necessario del prefetto perché io ho dei numeri non so se nel corso dell'avivione dei consigli si sono mutati io prefetto ero rimasto a 39 persone decedute di cui 37 identificati e 2 non ancora identificati i feriti 16 di cui ancora 9 in codice rosso e speriamo che stanno subito a questo stato di pericolo per quanto riguarda i nuclei degli scollati abbiamo 634 scollati per un totale di 311 nuclei familiari in questo momento il sindaco ci ha informato che molti di questi scollati hanno preferito trovare la maggior parte di essi una sistemazione autonoma presso parenti familiari ma è chiaro che siamo in una fase in un periodo temporale la pausa agostana in cui è più facile trovare una sistemazione presso familiari presso amici conoscenti è chiaro che non può essere questa la situazione normale per cui tra un po' si porrà per buona parte di essi se non per tutti anche il problema della necessità di offrire degli alloggi convenzionati o comunque delle sistemazioni adeguate l'ultima domanda Lanza è qua allora ricordi quanto è successo con il gestore di strada che si autocontrollava le persone e vi doi vedere la forma di questo di questo guardi non ho capito la prima parte può avvicinarsi perché si è quello che è successo con il gestore di strada che sostanzialmente si autocontrollava autocontrollava con le persone eccetera vedete una revisione del contratto di servizio ma guardi questo è un tema il problema non è che lo schema della convenzione il contratto di servizi non funziona diciamo che è un sistema questo che ha consentito di realizzare dei finanziamenti importanti infrastrutturali e sicuramente di per sé quindi non è lo schema che non funziona il problema è che sicuramente questo governo all'atto di risporre la concessione di nuove convenzioni sarà molto più rigoroso nella valutazione delle clausole cercheremo di riequilibrare molte di quelle clausole in modo da riformulare interamente l'equilibrio giuridico ed economico di questi schemi convenzionali e ovviamente in quella sede andremo anche a rivedere i contratti di servizi per rendere ancora più stringenti i vincoli e gli obblighi per quanto riguarda la manutenzione che ingombola a carico dei concessionali non c'è dubbio che saremo molto più rigorosi di quanto è stato fatto il passato grazie 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 arrivederci grazie